L'Unione Sindacale Zonale CISL di Licata solleva una problematica fondamentale per la città. Tony Licata, segretario zonale della CISL attraverso una nota, sottolinea quanto sia importante usufruire dell'acqua del tre sorgenti per evidenti ragioni soprattutto in questo particolare periodo di emergenza. Il sindacalista scrive nella nota che mai, come in questo momento, che vede sgorgare dai nostri lubinetti acqua di colore giallo per eccesso di torbidità e quindi non potabile, dovuto alle copiose piogge che si sono registrate in questi ultimi giorni in tutta la Sicilia, sarebbe ritornato ancora più utile poter avere acqua proveniente dal tre sorgenti alle fontanelle di Via Palma. Con ostinazione invece l'amministrazione comunale non convoca, così si legge nel comunicato, la conferenza di servizi con il Consorzio Acquedottistico, chiesto più e più volte da CISL e CGL di Licata, volto a chiarire definitivamente motivi ostativi alla manovra per far arrivare quell'acqua pura, disorgente e non torbida da invaso a Licata e consentire a quanti lo vogliono di approvvigionarsi alle fontanelle e non essere costretti ad acquistarle in bottiglia. La prima richiesta è partita fino agosto del 2012 ed è stata poi reiterata più volte, anche con qualche provocazione e qualche polemica mediatica, ma il sindaco, dice il segretario zonale della CISL, continua a metter tempo. Se non vi sono inconfessabili motivi ostativi, questa organizzazione sindacale reitera per l'ennesima volta la richiesta per arrivare a soluzioni condivise che vedano ritornare l'acqua del tre sorgenti a Licata, perché la città ne ha bisogno. Nella missiva il sindacalista della CISL si rivolge al sindaco Graci, sollecitandolo a convocare al più presto una conferenza di servizi affinché, conclude così la nota, non passi come il sindaco che ha impedito il ripristino dell'acqua del tre sorgenti a Licatesi.